Una petizione per abolire le accise sul carburante è quella lanciata dall'associazione Altro Consumo per poter raccogliere le firme degli utenti consumatori per porre rimedio al sistema della tassazione sulla benzina. Gli automobilisti italiani acquistando carburante pagano un importo costituito per il 50% da tasse in quanto le accise che gravano sul prezzo della benzina sono addirittura 16. L'associazione ha inoltre presentato una lista specifica e aggiornata di queste tasse imposte longeve, di lunga vita a partire da quelle pagate per finanziare la guerra in Etiopia del 1935 per risanare la crisi di Suez del 1956 ma anche per arginare il disastro del Vaion del 1963 l'alluvione di Firenze del 1966 o per il finanziamento dopo i terremoti quali tra i tanti quello del Friuli fino alle aliquote dell'ultimo trentennio quali accise per supportare la guerra in Libano del 1933 o il rinnovo del contratto degli auto ferrotranvieri degli anni 2000 e ancora per finanziare l'acquisto di autobus ecologici le emergenze immigrati la promozione della cultura e la conservazione dei beni culturali e per concludere per arginare le conseguenze dei sismi avvenuti in Emilia e in Abruzzo la questione centrale riguarda il concetto di base secondo cui l'introduzione di un'accisa dovrebbe avvenire per fronteggiare le emergenze e garantire la stabilità dei conti dello Stato e dal momento in cui servono per fronteggiare eventi naturali o storici dovrebbero essere eliminate nel momento in cui la situazione di emergenza rientra è quel motivo trainante che conduce alla petizione la quale ha già raggiunto quota di 3.000 firme molte ma non sufficienti dato che per presentare l'istanza al governo occorre raggiungerne 10.000 l'Italia è infatti il secondo paese in Europa per numero di accise superiori del 17% rispetto alla media e la prima per il prezzo della benzina con l'11,5% oltre la media europea non diverso è il sistema fiscale sul gasolio ma l'aumentare degli aliquoti è corrisposto a una flessione dei consumi e dunque non si è avuto l'effetto sperato nonché l'aumento di introiti per lo Stato nonché l'unico